Parliamo un po' di un insetto davvero celebre e inconfondibile. Tutti la amano, ma pochi la conoscono davvero. Si tratta della coccinella dai sette punti, coccinella septempunctata. Come tutte le altre coccinelle, appartiene all'ordine dei coleotteri, vi ricordo l'ordine più numeroso di insetti, e alla famiglia dei coccinellidi. Questa famiglia conta circa 5.000 specie conosciute. Esistono quindi tantissime specie di coccinelle, ma quella dai sette punti è senza dubbio una delle più comuni e conosciute. Tutti, ma proprio tutti, hanno visto almeno una volta questa specie di coccinella, anche perché è diffusa in gran parte del mondo. Non c'è nemmeno bisogno che vi mostri la sua distribuzione con una mappa. In Europa e in Italia è presente ovunque, ed è stata introdotta a più riprese anche dove non era presente, per motivi che vi spiegherò fra poco. Come in quasi tutti i coleotteri, il primo paio di ali è indurito e sclerificato, a formare una sorta di astuccio. Queste ali sono inadatte al volo, e sono dette elitre. Hanno una funzione difensiva, e proteggono l'insetto da urti, cadute e anche da alcuni predatori. Il secondo paio di ali è invece più classico. Si tratta di ali membranose e adatte al volo. Vengono tenute ripiegate sotto le elitre, e spiegate alla bisogna. Quando una coccinella deve volare, quindi, apre le elitre e libera le ali. Non si tratta di una volatrice molto aggraziata, ma come dico sempre io, l'importante è la sostanza, e la coccinella ha bisogno di volare piuttosto spesso. Per il resto, questo insetto presenta una lunghezza modesta, da 7 a 10 mm, e una forma arrotondata. Il capo e il torace sono di un bel nero lucido, ornati da un paio di macchie color crema. Anche l'addome è nero. Le elitre, che hanno reso questa coccinella così famosa, sono di uno splendido rosso vivo, ornate da tre puntini neri l'una. Un ulteriore puntino nero, che porta il totale a 7, è condiviso da entrambe le elitre, e si trova alla base di esse, vicino al torace. Ricordo inoltre che la grandezza dei puntini può variare da un individuo all'altro, e che quindi questa specie presenta una notevole variabilità individuale. La coccinella dai sette punti frequenta un grande numero di habitat. La si può ritrovare in prati e boschi, così come in parchi, giardini e in piena città. La sua colorazione è aposematica, ovvero avverte i predatori della tossicità dell'insetto. Poiché viene generalmente evitata dagli uccelli, il suo sapore deve essere disgustoso. La coccinella altrimenti non avrebbe l'interesse a sfoggiare quel bel rosso vivo. E se questo monito non dovesse bastare, è anche in grado di sacernere un fluido disgustoso dalle zampe. Una coccinella minacciata di solito tiene le zampe aderenti al corpo, si lascia cadere per terra simulando la morte e al contempo sacerne questa sostanza. A quel punto diventa un boccone davvero poco ambito per il predatore di turno. In inverno questo insetto sverna come adulto in cavità naturali, riducendo di molto le sue attività, mentre nella bella stagione si attiva e cerca incessantemente un partner. Dopo l'accoppiamento la femmina depone circa 2000 uova giallastre. La larva che ne fuoriesce ha un aspetto molto diverso dall'adulto, e presenta una forma allungata e segmentata, con un colore nerastro e ornata di macchie gialle. Veniamo quindi al nocciolo della questione. Nonostante l'aspetto carino ed elegante, la coccinella è una feroce predatrice di insetti più piccoli. Non per niente è dotata di poderose mascelle in grado di dilaniare ogni creatura più piccola di lei. E la larva, da questo punto di vista, non è certo meno feroce dell'adulto. Quindi, sia le coccinelle adulte che le loro larve predano avidamente insetti più piccoli, e prediligono in particolar modo gli afidi, i cosiddetti pidocchi delle piante, quei minuscoli insettini appartenenti all'ordine degli emitteri che talvolta si affollano sugli steli delle piante, infestandole e succhiandone la linfa. Con le loro zampette, corte ma agili, le coccinelle, sia gli adulti che le larve, si arrampicano agevolmente sulle piante e fanno delle vere e proprie stragi di afidi, attirandosi a volte l'ira delle formiche, che allevano e difendono proprio gli afidi per poi nutrirsi di una sostanza zuccherina da essi prodotta. Poiché gli afidi, quando sono in gran numero, possono provocare seri danni alle piante, e poiché talvolta si tratta di piante coltivate dall'uomo che ne trae un profitto economico, le coccinelle sono spesso considerate specie utili. Ed ecco spiegato il perché la coccinella dai sette punti è stata introdotta in svariate parti del mondo. È interessante notare come l'uomo sembra prodigarsi per una specie animale solo quando la suddetta specie ha una qualche utilità economica e gli gonfia il portafogli. In base a questo principio distorto e antropocentrico, ci piace suddividere gli animali in specie utili o dannose, quando in realtà in natura non esistono specie dannose, perché ognuna ha il suo ruolo preciso e tutte assieme costituiscono un mosaico, dove ogni tassello ha la sua importanza. Ma noi, si sa, ragioniamo sempre con la testa al denaro. Al di là di questo discorso, comunque, adesso conoscete un po' di più questa piccoletta terribile.